Piano di sviluppo rurale, superati il target di spesa al 2022, circa 410 milioni di euro ad oggi erogati a favore delle imprese agricole abruzzesi con un surplus di oltre 7 milioni. Altrettanto ambizioso è il nuovo, il CSR, complemento per lo sviluppo rurale per il periodo 2023-2027. Per l'Abruzzo ci sono 354 milioni di euro circa a sostegno di imprese del comparto dell'agricoltura, con i primi 7 bandi che sono stati già pubblicati a dicembre. Per 26 milioni di euro c'è stato il via libera di un cronoprogramma con bandi per quasi 165 milioni entro l'anno in corso. Il piano prevede 35 diverse misure, di cui 31 a fondo perduto. Per il PSR nel 2022 le aziende beneficiari sono state 10.900. L'assessorato all'agricoltura ha portato avanti nel tempo anche incontri sul territorio regionale con le imprese. Ci saranno anche interventi dedicati al miglioramento dei prati e dei pascoli per il settore Ovi-Caprino, con una dotazione di 18 milioni di euro e per gli allevatori custodi della biodiversità con una dotazione di un milione di euro. In questi due programmi ci sono anche fondi per il ricambio generazionale con investimenti per nuove aziende, l'ultimo dei quali di 7 milioni di euro per 85 nuove imprese. Per la prima volta siamo una regione performante, questo ce lo riconosce l'Europa, ci sono dichiarazioni formali e soprattutto stiamo cercando tra mille difficoltà di snellire quelle che sono le procedure amministrative per quanto riguarda i bandi legati al PSR e al nuovo CSR. Abbiamo introdotto operazioni di semplificazione, abbiamo tolto i tre preventivi, abbiamo messo un prezziario agrario, abbiamo creato gli strumenti finanziari che saranno un'occasione importante per quanto riguarda la nuova programmazione per andare incontro alle esigenze di quelle che sono le nuove aziende e soprattutto abbiamo fatto, che è un dato importante, siamo la terza regione in Italia che percentualmente mette più soldi sui giovani e quindi sulla capacità di fare ricambio generazionale e di creare nuove opportunità. È una regione che oggi partecipa a 360 gradi su quelli che sono eventi nazionali e internazionali, abbiamo una credibilità diversa, siamo una regione credibile e questo ha consentito di sederci nei tavoli nazionali per quanto è stato il riparto delle nuove risorse, grazie alla credibilità che abbiamo, abbiamo un 16% in più di risorse a disposizione per il mondo agricolo abruzzese.